sta tritando la menta che nei carciofi arrostiti noi li facciamo al forno però è la stessa cosa per farli arrostiti in campagna in questo modo che noi stiamo facendo adesso si mette la menta e ci sta benissimo ha fatto anche un trito d'aglio io non lo digerisco ma stasera al rischio e me lo faccio mettere pure nei carciofi che sembrano guardate qui che belli delle rose adesso li farcisce andando negli spazi soprattutto perché così tutto il carciofo si insaporisce per bene questi sono i carciofi della nostra campagna sottolinea proviamo con un filo d'olio veramente abbondante olio ed eccoli prontissimi ti posso assicurare che non sono bruciati anche se così può sembrare ma sono ben cotti e le foglie dei carciofi sono tenere e gustose grazie al trito da aglio e menta realizzato da mio marito che oggi è stato chef per un giorno ti posso assicurare che ho provato i carciofi arrostiti in campagna e sono uguali a questi e se come me non digerisci l'aglio ti posso dire che io non l'ho sentito e come hai visto ce n'era tanto e tagliato piccolissimo quindi provali e poi mi saprai dire e ovviamente se hai gradito questa preparazione iscriviti regalami un like e condividi sui tuoi social iscriviti al canale